Con un siluro di Nicolas Benzaia l'Aquila firma l'impresa, passa ad Arezzo e centra la seconda vittoria in campionato in due partite. Percorso netto non fosse che per la penalizzazione di un punto, un successo che è un premio alla tenacia dei ragazzi di Carlo Perrone che hanno saputo soffrire e hanno usufruito anche di un pizzico di buona sorte nei momenti topici dell'incontro, stringendo i denti nei minuti finali affrontati in inferiorità numerica per l'espulsione di Piva, prima di piazzare il colpo del micidiale KO. Squalificato Ceccarelli Perrone sceglie Sanni a destra e Bigoni in mediana, Mancini in avanti, panchina per Di Mercurio e Triarico. L'eccentrico Ezionino Capuano vara un Arezzo più offensivo con Tremolada dietro la coppia, Cori defendi. L'Aquila ha subito una palla buona al 14esimo quando Mancini inventa per San Domenico che spara addosso a Baiocco. La risposta retina arriva dopo 4 minuti quando Cori protegge per Tremolada il cui sinistro è respinto dal compagno Sperotto. Al ventunesimo è Cori ad andare alla conclusione aerea sul corner dell'ex Ascolano Capece, palla alta. La pressione dell'Arezzo sale di livello e l'Aquila è costretta sulla difensiva. Poco prima della mezz'ora Zandrini interviene in due tempi, ancora Capece tenta dalla distanza ma senza la dovuta mira. Trema ancora l'undici di Perrone nel finale di frazione, cross di Sperotto sfiora Cori ed il palo salva Zandrini. Quindi defendi, spara dal limite, l'intervento di Zandrini non è perfetto ma per sua fortuna i compagni lo proteggono ed evitano complicazioni. Prima dell'intervallo Piva si becca il primo giallo della sua partita. Inizio di ripresa con l'Aquila che in qualche modo respira e anzi torna a farsi ancora pericolosa dalle parti di Baiocco con la sassata di Mancini al settimo. Perna per San Domenico da una parte, Betancourt per defendi dall'altra. Queste le prime mosse a metà ripresa ma è l'Arezzo a tornare a martellare. Sublime lancio di Tremolada, Feola in corna, traversa. Da un rilancio del portiere, poco dopo la mezz'ora prende il via un rapido capovolgimento di fronte. Betancourt fa tutto bene ma grazie a Zandrini. Un farlo su Carlini costa al trentanovesimo il secondo giallo a Simone Piva. L'Aquila in dieci ma l'Arezzo non sfonda. Anzi in pieno recupero Benzaia prima si conquista un calcio di punizione. E poi fa esplodere un destro esiziale. Forse Baiocco parte tardi ma poco importa. Benzaia pesca il giogli e va ad esultare coi compagni sotto il settore aquilano. Per l'Arezzo una beffa, l'Aquila vince ancora e Carlo Perrone può sorridere. Lavorare con l'entusiasmo per i punti conquistati è il modo migliore per cercare di migliorarsi.